Formare i professionisti della salute e sicurezza sul lavoro, questo l'obiettivo del master promosso da quattro facoltà dell'Università La Sapienza e dall'INAIL, in collaborazione con numerosi partner rappresentativi del tessuto produttivo italiano. L'Università italiana in prima linea insieme all'INAIL per costituire un gruppo di persone, di specialisti che abbiano una piena consapevolezza e una preparazione approfondita per poter gestire le sfide del futuro. Sfide che si vincono solo con un'adeguata formazione. Noi speriamo con questo programma di creare nuove figure professionali che possano dare impulso ai progressi della prevenzione sul lavoro. Fondamentale il legame con la ricerca. Necessità di lavorare attraverso un link proficuo tra sistema della ricerca, trasferimento tecnologico, trasferimento di conoscenze, attività quindi di prevenzione efficace in quanto le aziende che hanno aderito e sono le più importanti del paese hanno capito che servono figure nuove. Un master dunque sicuramente innovativo. Sfrutta un sistema di formazione ammatrice utilizzando un corpo centrale di crediti formativi e dei corsi di formazione attivati dai vari dipartimenti delle nostre facoltà. Una sperimentazione didattica direi unica. Alla luce dell'innovazione. Il tema è formare delle figure nuove su una sfida importante come quella dell'industria 4.0, del cambiamento del mondo del lavoro e soprattutto del paradigma della prevenzione. C'è sempre più bisogno di portare la prevenzione non come un'attività che viene a valle dei processi ma nella progettazione dei processi. Quindi prevenire fa parte della finiera dello sviluppo sostenibile. Quindi investire in prevenzione non vuol dire solamente adempire a norme e obblighi di legge ma anche aumentare la produttività.